Fabio Chinelli, innanzitutto, a che età hai iniziato a correre? Ho iniziato a 12 anni, prima giocavo a calcio, corvo a motocross. In famiglia non avevo nessuno con la passione del ciclismo, mi sono appassionato vedendolo in tv, vedendo le volate di cipollini, le salite di Pantani, ho chiesto i medi di assecondarmi per questa scelta, mi hanno concesso e è iniziata l'avventura. Che cos'è per te il ciclismo oggi? Il ciclismo oggi è praticamente una vita, uno stile di vita. Da quando ho iniziato l'ho sempre fatto seriamente, ho sempre cercato di dare il massimo e ora è impegno, sacrificio e belle soddisfazioni. La più grande soddisfazione che ti ha dato il ciclismo fino ad oggi? Sicuramente la possibilità di conoscere tante persone, di togliermi soddisfazioni personali e penso di essere cresciuta come persona. Quando ti sei avvicinato al ciclismo, che cos'era per te la bicicletta? Inizialmente un gioco, erano stare assieme con tanti amici e divertimento, poi pian piano è diventato un lavoro. Il tuo obiettivo per questa stagione? Migliorare i piazzamenti del scorso anno, raccogliere una vittoria per i professionisti almeno e poi firmare un buon contratto per il prossimo anno nei professionisti. Chi è il tuo ideale di corridore oggi? Ma non ho un corridore a cui mi ispiro. Mi è sempre piaciuto molto Petacchi per la professionalità e per le volate. Adesso ci sono tanti buoni corridori e sono molto contento di poterci correre assieme anche domani. La corsa dei tuoi sogni? La Milano Sanremo. Cosa pensi che ti abbia insegnato questo sport? Sicuramente mi ha insegnato i valori, mi ha insegnato il sacrificio, mi ha insegnato che per raggiungere grandi obiettivi c'è molto lavoro da fare e credo che sia un po' come è nella vita di tutti i giorni. Cosa ti ha insegnato praticare uno sport di squadra? Ma è sicuramente stare assieme con tante altre persone, rispettare dei ruoli e mi ha insegnato come ho già detto dei valori importanti e sono molto contento della scelta che ho fatto. Il tuo messaggio ai bambini che si avvicinano a questo sport? Correte, divertitevi e non abbiate paura della fatica. Grazie a tutti.